Oggi siamo qui per questo sit-in di protesta, siamo voluti venire appositamente con i nostri mezzi di lavoro, con i camion, gli escavatori e tutti i nostri dipendenti perché il nostro primo pensiero va a loro, perché da domani rischieranno la cassa integrazione o peggio ancora il licenziamento e questo per noi è un colpo a cuore. Non soltanto questo motivo, vantiamo crediti per centinaia di mila euro e non vediamo la luce in questo tunnel e quello che è ancora più grave è che non sappiamo quanto tempo ritorneremo al lavoro, se la nuova società, l'AICA, ci permetterà di entrare presso il loro organico. Il nostro pensiero va ai geometri, ai fontanieri, a tutto il personale della Idrotec e della Giurgentia Acqua che in queste ore sono in stato d'agitazione perché anche loro come noi rischiano il posto di lavoro e rischiano gli stipendi. Noi siamo esasperati, disperati e non ce la facciamo più perché molti di noi o tutti non dormono più la notte per questa situazione. Come ho già detto più volte non è un problema solo nostro come dipendenti, noi qua non siamo oggi a scioperare ma a dare un sostegno a queste ditte perché siamo dentro a lavorare, perché se ci fermiamo noi al pubblico non arriva l'acqua, quindi noi non ci possiamo fermare anche se non ci hanno dato la quattordicesima, anche se ci hanno detto che lo stipendio non ce lo pagano e ci sono famiglie che hanno mutuo, che hanno cose da pagare, famiglie monostipendio che fermandosi un mese sono a terra completamente però siamo qua a sostenere ancora i cittadini e vorrei che si muovesse la regione perché ormai si deve muovere la regione perché la regione deve capire che ci sono 400 famiglie, 300 qua e 300 sono loro, famiglie che hanno lavorato per dare acqua al pubblico, questo deve capire la gente che noi siamo qua per dare acqua al pubblico perché siamo per la gente, non contro la gente, siamo stati sempre per la gente, nonostante la gente ci dice parolacce, nonostante la gente ci dice che siamo messi qua dentro perché ci ha fatto mettere qualcuno ma non è proprio così perché noi qua dentro abbiamo dato il sangue, ognuno di noi ha dato il sangue qua dentro e non solo ha dato il sangue, ognuno di noi è specializzato a fare il nostro lavoro e non ci possono sostituire perché noi sappiamo fare benissimo il nostro lavoro.